Mi chiamo Elena Cariati, ho 19 anni e studio al Pistino del Piano Gentile, indirizzo economico aziendale. Sono in Sati per un progetto di alternanza scuola-lavoro, questa esperienza durerà un mese, ma sono già qui da tre settimane e sto lavorando nell'ufficio di Customer Service Serigrafia. Durante questo periodo sto approfondendo le mie conoscenze informatiche, lavorando con i gestionali come SAP o Excel. Grazie a diversi colleghi ho avuto l'opportunità di scoprire e capire come funziona l'azienda, sia a livello produttivo che amministrativo. La difficoltà iniziale era cercare di collegare la parte amministrativa a quella produttiva, perché usando per la prima volta il gestionale della Sati non riuscivo a capire bene a cosa si riferissero i vari codici. Ma grazie alla spiegazione dei vari collaboratori sono riuscita a trovare il legame tra le due parti. Questa esperienza mi è servita per capire come funziona l'ambito lavorativo e cosa mi aspetterà al termine della mia scuola. Sono stata molto felice di essere accolta in questa azienda, perché non solo ho incontrato magnifiche persone, ma anche perché mi sono trovata molto bene durante il mio lavoro. E... ciao! Però giurami che se vengo male non lo metto.